Ben trovati! In questa lezione metteremo insieme quello che abbiamo imparato finora per realizzare un robot da guardia che pattugli la tua scrivania avanti e indietro. Un grazie particolare va a Dream Puzzle per il supporto che mi ha dato nella realizzazione di questo video. Anche per questa lezione utilizzeremo la base motrice Spike Prime di cui trovate le istruzioni nell'app stessa oppure sul sito Lego Education. E ora robot da guardia a me! Il professor Mattoncini! Ripartiamo da dove avevamo lasciato nelle scorse lezioni. Andiamo nella tabolozza movimento e impostiamo i motori di movimento su C più D. Imposto la velocità di movimento sul 50% e dico al Mattoncino che il robot farà 17,5 cm con una rotazione delle ruote. Se volete potete impostare l'accelerazione del movimento sul lento per avere manovre con accelerazioni e di accelerazioni morbide. A questo punto noi possiamo andare avanti per 20 cm con la certezza che saranno 20 cm perché abbiamo usato questo blocco di impostazione. Poi possiamo girare sul posto verso destra per una rotazione che corrispondeva a mezzo giro sul posto. Siccome sono pigro clicco col destro, duplico e cambio semplicemente la direzione di rotazione verso sinistra e adesso lo possiamo provare. Se vogliamo far durare di più la missione possiamo ripetere queste azioni. In un video futuro vi farò vedere che c'è un modo più comodo ma per adesso clicco col destro, duplica e incollo. Di nuovo destro, duplica e incollo. Cambiamo percorso. Abbiamo fatto avanti e indietro, ora sorvegliamo un'area più vasta percorrendo un quadrato. Per pattugliare su un percorso quadrato, siccome il quadrato ha quattro lati, io dovrò andare avanti, per esempio per 10 cm, poi girare sul posto di, ricordate, mezza rotazione per poter fare un quarto di giro e ripetere questa azione quattro volte per ritornare auspicabilmente nel posto in cui sono partito. Quindi duplica e lo attacco qui. destro, duplica e lo attacco qui. Destro, duplica e lo attacco qui. È abbastanza chiaro a questo punto che se io voglio che il robot continui a pattugliare quest'area più a lungo o all'infinito, all'infinito cioè finché non si scarica la batteria o finché non spengo il programma, avrai quindi bisogno di qualche blocco nuovo che ancora non conosci che ti permetterà di ripetere queste sequenze di azioni quante volte vorrai. Vi è piaciuta la lezione? Sbatacchi al tasto mi piace. Non perderti la prossima lezione, già che ci sei, iscriviti, perché vedremo come fare a far ripetere al tuo robot le azioni quante volte vorrai, anche all'infinito, senza dover raggiungere una caterva di blocchi al tuo programma. Resta giovane, gioca a modino. Ciao.